Cosa c'entra Napoleone con l'intelligenza artificiale? Immagina di essere nel 1809 al palazzo imperiale di Vienna, mentre Napoleone Bonaparte, durante le sue campagne contro l'impero austriaco, sfida a scacchi un fantoccio di legno e, dopo sole 19 mosse, il condottiero francese ammette la sconfitta. Un vero shock per l'epoca. La marionetta, infatti, faceva sì leva su ingranaggi e magneti, tuttavia questi venivano controllati da scacchisti talentuosi nascosti dentro la cassa della macchina. Insomma, un ingegno truffaldino, il quale però getta le prime basi del concetto di automa. E oggi, con le macchine che non solo giocano a scacchi, ma si avvicinano sempre di più a imitare le capacità cognitive umane, è più che naturale che si mostri diffidenza verso nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. La vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale ebbe inizio nel 1936, quando il matematico inglese Alan Turing, nel suo articolo On Computable Numbers, si pose una domanda basilare. Le macchine possono pensare? Da questo concetto nacque il test di Turing, un esperimento nel quale si poneva un osservatore umano a dialogare con una macchina. Se la persona non era in grado di distinguere le risposte della macchina da quelle di un qualsivoglia essere umano, l'automa poteva essere considerato intelligente. Anche se oggi questo test non è considerato sufficiente per definire un'intelligenza, all'epoca fu una svolta nell'evoluzione della mente artificiale, tant'è che negli anni 50 l'entusiasmo portò la DARPA, agenzia statunitense creata in risposta al lancio del satellite Sputnik, a finanziare pesantemente progetti di ricerca sull'intelligenza artificiale. Fu proprio grazie ai finanziamenti DARPA che, nel 1966, la MIT di Boston diede luce a Adeliza, il primo chatbot capace di simulare una conversazione terapeutica. Nonostante i successi iniziali, negli anni 70 i sistemi esistenti si rivelarono inadeguati per risolvere problemi complessi e reali, portando al cosiddetto AI Winter, dove il taglio di investimenti della DARPA segnò una battuta di arresto per il settore. Nel 1977 anche il Deep Blue di IBM, che oggi è riconosciuto come un banale algoritmo, all'epoca fu accolto sotto l'ombrello dell'intelligenza artificiale dopo aver vinto una partita a scacchi contro il campione Gary Kasparov. Ma solo negli anni 80, con il Giappone che lanciò il suo Fifth Generation Project, si riaccese il vero interesse per l'AI, portando a una vera e propria rinascita. Ma fu solo con l'introduzione del Word Embedding che si giunse al concetto di AI d'ampio consumo e strumenti che si fondano su tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale degli esseri umani. Introdotto tra il 2010 e il 2013, il Word Embedding permette ai computer di associare parole utilizzate in contesti simili. Ad esempio, vocaboli come re e regina o cane e cucciolo finiranno per occupare posizioni simili in un vettore semantico, consentendo ai modelli di linguaggio di migliorare la capacità di generare testi coerenti e significativi. Il passo successivo è avvenuto tra il 2018 e il 2021, con lo sviluppo e la raffinazione delle tecnologie di prompting. Il processo che permette di guidare l'AI con una stringa del nostro linguaggio naturale, aprendo le porte dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche a quella fetta di utenti poco avvezzi al suo lato tecnico. Eppure, una domanda persiste. Queste macchine possono davvero essere considerate intelligenti? Le applicazioni delle AI hanno sempre fini benevoli. Riesce a distinguere un deepfake creato con l'intelligenza artificiale da un contenuto reale? Queste sono foto palesemente false, come anche queste. E questo. Ma questa influencer invece? E se al posto di meme ci si mettesse di mezzo il porno? Già in un rapporto del 2019 si evidenziava come circa il 96% dei deepfake online rappresentavano una qualche forma di pornografia non consensuale e che nel 99% dei casi le vittime erano donne. destino che è toccato anche alla presidente del Consiglio Italiana, Giorgia Meloni. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Nato dalla fusione di deep learning e fake, il deepfake è uno strumento che consente di creare foto e video iperrealistici che replicano l'aspetto e la voce di persone reali. Quando questo, però, va a intaccare la sfera sessuale ha effetti devastanti sulla reputazione e la vita delle vittime. E, in molti casi, la legislazione è ancora insufficiente a contrastare questi crimini. Solo nel Regno Unito esiste una legge specifica contro la condivisione di deepfake pornografici, ma essa si limita a punire la diffusione, lasciando impunita la creazione il cui nucleo principale nasce da vere fabbriche di stupri digitali di massa, siti internet liberamente accessibili in cui si possono comprare deepfake porno personalizzati per qualche manciata di dollari. Le indagini condotte da Bellingcat, un'autorità nel giornalismo investigativo, hanno svelato che i principali siti di deepfake pornografici sono collegati a una rete illegale riconducibile a Vitali Ionov e Anastasia Protorova, con la società Golden Falcon, FZCO, al centro di questo commercio. Grazie a un sondaggio anonimo in un gruppo di Telegram, Sensity ha scoperto che il 63% dei partecipanti era interessato a creare deepfake porno con immagini di donne conosciute nella vita reale, e che solamente il 16% era orientato sulle celebrità. Con questi contenuti illegali aumentati del 2.408% su siti come Reddit e Ex nel solo 2023. Questo dato è agghiacciante. Significa che chiunque abbia mai postato foto online è vulnerabile all'abuso tecnologico. Gli uomini, d'altro canto, diventano per lo più oggetto di meme o strumenti di manipolazione dell'opinione pubblica. Nel 2022 un video manipolato di Zelensky invitava i cittadini a deporre le armi, creando caos prima di essere smascherato. E durante le primarie presidenziali statunitensi del 2024, un messaggio telefonico attribuito a Joe Biden cercava di dissuadere gli elettori democratici da recarsi alle urne. La domanda che dobbiamo porci è quanto siamo disposti a sacrificare sull'altare del progresso tecnologico. Quali sono gli strumenti per proteggerci? Nel cuore del dibattito sull'intelligenza artificiale c'è una domanda urgente. Chi possiede i diritti su un'opera creata da una macchina? In Europa l'AI Act, approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024, tenta di regolare la questione, ma non chiarisce se l'uso dei dati protetti per addestrare l'AI, come nel caso dello scraping, violi i diritti d'autore. Un esempio emblematico di queste controversie è il caso Getty Images contro Stability AI, dove i software di Stability AI, noti per aver reso pubblici i propri dataset, hanno generato immagini che includevano la firma di Getty Images, indicando una possibile violazione del copyright. L'AI Act europeo, comunque, cerca di regolare l'intelligenza artificiale basandosi su sette principi etici, tra cui trasparenza e non discriminazione, e introduce una classifica all'intelligenza artificiale in base alla loro pericolosità. Le intelligenze artificiali a rischio inaccettabile, come il riconoscimento facciale in tempo reale, sono vietate, mentre le intelligenze artificiali a rischio elevato, come quelle usate in ambiti critici, devono rispettare requisiti stringenti. Le sanzioni sono severe e possono arrivare fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato aziendale. L'AI Act richiede poi ai fornitori di sistemi di intelligenza artificiale di rendere pubblica una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento dei modelli. Ci sono però dei casi d'uso in cui l'AI Act non si applica, come per la ricerca e lo sviluppo scientifici e l'uso non professionale dell'AI da parte di persone fisiche. Un punto centrale di questa discussione però resta. È possibile che le opere create dall'AI possano essere protette da diritti d'autore? L'articolo 1 della nostra legge 633-1941 protegge tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, una definizione che, come confermato dalla giurisprudenza, richiama qualità proprie esclusivamente dell'essere umano. Eppure, il Tribunale di Pechino ha recentemente stabilito che un'immagine che era stata creata tramite il software di intelligenza artificiale Stable Diffusion può essere tutelata dal diritto d'autore. Riconoscendo che la sezione dei testi di richiesta e l'impostazione dei parametri per l'intelligenza artificiale costituiscono un certo grado di investimento intellettuale, equiparando il prompt a un contributo creativo umano. E voi, che ne pensate? Fateci sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione. E a livello ambientale, invece? Lo sapevi che CiaGPT3 consuma circa mezzo litro d'acqua per generare dalle 10 alle 50 risposte? Questo è dovuto alle operazioni di raffreddamento dei server, dei quali solo l'addestramento ha richiesto 700.000 litri, l'equivalente della produzione di 370 auto BMW. Tant'è che in luoghi come Des Moines, nell'Iowa, i datacenter di OpenAI hanno continuato a prelevare acqua persino durante la siccità e quando le temperature salgono i server hanno ancora più bisogno di bere, arrivando a consumare anche 40 o 50 milioni di litri in un mese. Parlando di CO2, invece, l'addestramento di un modello di AI nel 2019 produceva quasi 283.950 kg di anidride carbonica, l'equivalente di 300 voli andate e ritorno tra New York e San Francisco e quasi 5 volte le emissioni totali di un'auto media nel corso della sua vita. Come se non bastasse, oltre all'elettricità e all'acqua, l'intelligenza artificiale dipende da minerali rari come il litio, il neodimio e il disprosio, fondamentali per batterie e magneti, difficili da estrarre e altamente inquinanti. Dell'argilla estratta per ottenerli, infatti, solo lo 0,2% contiene minerali utili, mentre il resto diventa scarto tossico, con la domanda di litio che potrebbe crescere di 40 volte entro il 2040 e di 7 volte quella di terre rare come il neodimio. Insomma, l'AI sta trasformando il mondo, ma a che costo? E se tutto ciò non fosse abbastanza, cosa dire dell'intelligenza artificiale applicata in guerra? Siamo pronti a vivere in un mondo in cui le decisioni di vita e morte sono prese da una macchina. Beh, questo è già realtà. Durante il conflitto a Gaza, l'esercito israeliano ha utilizzato un sistema chiamato Lavender, un'intelligenza artificiale che assegna un punteggio di rischio da 1 a 100 a 2,3 milioni di persone in base alla probabilità di essere dei militanti. E il personale dell'IDF? Una fonte ha rivelato che il personale umano dedicava personalmente solo circa 20 secondi a ciascun bersaglio prima di autorizzare un bombardamento, finendo con de-responsabilizzare tanto i decisori quanto gli esecutori delle stragi. Relegando i meriti e i demeriti delle azioni sanguinose a una macchina che semplicemente elabora le informazioni fornite. Ebbene, Lavender non è stato l'unico esempio. Durante l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, l'intelligenza artificiale ha giocato un ruolo cruciale quando, la mattina dell'1 giugno 2022, Alex Karp, il CEO della società statunitense Planteer Technologies, ha attraversato il confine tra Polonia e Ucraina a piedi per imbastire un accordo con Zelensky sull'utilizzo di una tecnologia che è stata poi in grado di individuare la maggior parte dei bersagli russi. Nel dicembre 2020, la Northrop Grumman, il terzo maggiore produttore di armi e fornitore di tecnologia militare al mondo, ha avviato una collaborazione con un team di esperti del settore delle radiofrequenze. E con il Pentagono, che nel 2024 ha richiesto al congresso 3 miliardi di dollari per attività militari legate all'intelligenza artificiale, la Cina e il piano Made in China 2025, e la Russia, che non è da meno, quale futuro ci attende con l'intelligenza artificiale? Esploriamo i tre scenari possibili e tanti altri temi spinosi nel nostro nuovo libro Sopravvivere nell'era dell'intelligenza artificiale, un lavoro approfondito, indipendente e non filtrato da interessi superiori. Puoi trovare il libro dal primo link in descrizione. Grazie.